benvenuto al nostro ospite Alfredo Ravelli, imprenditore e insegnante di matematica e fisica, giornalista e biografo ufficiale eh di suo cugino Rolando Pellizza. Unico allievo e collaboratore del famoso fisico Ettore Maiorana del gruppo di Enrico Fermi, i ragazzi di via Panisperna, scomparso misteriosamente nel 1938. Buongiorno Alfredo, buongiorno. Buongiorno altrettanto a te e eventualmente a tutti gli ascoltatori naturalmente. Assolutamente, assolutamente. Ti volevo fare intanto una domanda per aprire l'argomento. Perché hai scritto la biografia di Rolando Pellizza, un personaggio di cui ultimamente se ne parla sempre di più, se ce ne puoi parlare ecco. È una domanda interessante anche per me, perché due volte mi pongo anch'io questa domanda. Come mai io ho scritto la biografia e come mai ho seguito Rolando Pellizza? Voglio dire che noi siamo alla lontana, siamo cugini, siamo parenti. Siamo nati nello stesso paese, nella stessa cittadina, nella stessa cittadina che è Chiari in provincia di Brescia. Tutte e due siamo del 38, abbiamo 82 anni e posso fare un sorriso, 82 anni, 83 di qua a poco, io in gennaio e lui in febbraio, per cui siamo ancora attivi. Dunque, dopo aver passato un po' da bambini, siamo stati un po' amici al riguardo verso i 12-13 anni da ragazzetti, io ho preso una mia strada, lui ha preso la sua, che io non conoscevo cosa facesse. Però nel 1980, cioè praticamente 40 anni fa, l'ho avuto modo di incontrarlo e lui mi ha chiesto alcune cose, un piacere al riguardo, ben volentieri, e avrò la possibilità di poterlo, una stupidata tra di noi, tra parenti, diciamo, e l'ho rivisto. Lui in quel periodo lì però ha avuto tre mandati di cattura di cui internazionali. Io sono rimasto basito su queste catture. Però è tanto vero che lui è dovuto andare all'estero, se è rifugiato all'estero, è dove è rimasto praticamente quasi 11 anni. Io ho cominciato a frequentarlo proprio durante questi 11 anni che lui è rimasto all'estero. E la roba strana era questa, tanto per dire come vanno le cose in Italia e nel mondo. Lui aveva anche un mandato di cattura internazionale. Premetto che lui dopo è stato assolto da tutti questi mandati di cattura, è uscito indenne, non ha nessuna, da questo punto di vista, nessuna condanna al riguardo. Lui però telefonava, siccome è molto attaccato alla famiglia, come noi tutti, diciamo, in modo particolare italiani, tutti i giorni telefonava a casa. Se volevano prenderlo, cioè se volevano arrestarlo veramente, bastava seguire le telefonate. Io personalmente sono andato a trovarlo qualche decina di volte all'estero. Ho portato la moglie, ho portato il figlio, abbiamo avuto i contatti a riguardo. Praticamente sapevano tutto su di lui, lo volevano veramente isolare, creargli delle difficoltà. Da lì mi sono appassionato la sua vicenda. Lui però mi ha raccontato un po' della sua vicenda senza mai farmi il nome di chi c'era alle sue spalle, che noi sappiamo attualmente che essere Ettore Majorana. Perché? Perché aveva fatto, diciamo, un patto con lui di mantenere il segreto, patto che poi nel 2001 Ettore Majorana con una lettera, con una lettera, gli ha dato la possibilità di poter utilizzare il suo nome, di poter dirvi raccontare la storia al riguardo. Ecco, da quel momento lì mi sono appassionato alla sua storia. Pian pianino ho cercato di capire cosa aveva fatto, cos'era successo. Ho trovato una persona che era molto restio a parlarne, cioè voleva avere in mente di agire, di fare e ho dovuto strappargli gli elementi, la storia pian pianino, pian pianino e a un certo momento ho avuto tutta la confidenza di quanto è avvenuto al riguardo. Mi sono stato vicino da 1980 fino adesso, sono tuttora vicino al riguardo, perché è una vicenda eccezionale, documentata. Ecco, questo è il motivo per cui. Assolutamente, no, è incredibile. Ma dove come Pellizza ha conosciuto Ettore Majorana? Ecco, se ci vuoi dare qualche indicazione. Lei è venuto fuori, pian pianino ho dovuto strappare, dico strappare perché veramente lui all'inizio non voleva fare il nome e non l'ha fatto fino attorno agli anni 2000. Perciò lui l'ha conosciuto nel 1958. Nel 1958 Rolando Pellizza aveva vent'anni. Ettore Majorana, che era del 2006, praticamente 2006, 58, aveva 52 anni. Lui l'ha conosciuto, non ha mai voluto dire esattamente il posto esatto, ma per una serie di motivi, di indizi, riteniamo, lui l'ha mai confermato. Si sa che lui l'ha conosciuto in un convento. Perché? Perché noi abbiamo delle lettere di Majorana scritte da lui, periziate di periti, in cui dicono che queste lettere sono scritte da un lettore di Majorana, periti del tribunale, perizia fatta sotto giuramento, per cui abbiamo l'attestazione della veridicità dal punto di vista reale, in cui in un certo momento Ettore Majorana parla del priore, se c'è un priore è un convento. E proprio questo qui riguarda la quarta fase della macchina, quando Ettore Majorana ha voluto fare la prova su di sé, dice in un certo momento, il priore ha voluto che io facessi la fotografia per immortalare il momento di questo che è venuto. Ecco noi sappiamo senz'altro che anche lì abbiamo una conferma. Lui era un imprenditore, lui aveva, quindi i suoi avevano un negozio di scarpe, siamo sempre attorno agli anni 1950 del secolo scorso. Ma come si è svolta questa collaborazione tra Rolando Bellizza Ettore Majorana nello specifico? Nello specifico è che lui, Ettore Majorana, questo parliamo sapendo ex post, sapendo la storia come è successo. Ettore Majorana si è ritirato per un motivo molto semplice, è il motivo che poi lui dirà in una lettera ben precisa. Perché? Perché aveva la possibilità di dimostrare al mondo, voleva dimostrare che esisteva un'altra alternativa a quanto veniva utilizzato, si parla della scoperta dell'atomo, la materia, della grande energia contenuta nell'atomo e voleva dimostrare quello. Si è ritirato, è sparito nel 38 e nel 58, 20 anni dopo, conosce Rolando Bellizza. Ettore Majorana, lo sappiamo benissimo, è un fisico teorico di una capacità eccezionale. Noi sappiamo gli elogi e anche tuttora, dopo tanti anni dalla sua enigmatica scomparsa, stanno studiando ancora quanto lui ha lasciato di scritto quando, prima di sparire, basta pensare al neutrino di Majorana per sapere se c'è tra il riguardo. però aveva messo a punto una sua teoria, aveva bisogno però questa teoria di fare degli esperimenti per vedere se la teoria combateva. Secondo Majorana e secondo Rolando, secondo Rolando dice quando Ettore Majorana dice che la teoria va bene, anche senza esperimenti siamo sicuri che va bene, però bisogna averla conferma. Aveva bisogno di costruire una macchina particolare che serviva proprio per sviluppare, far vedere sperimentalmente la sua teoria. E lui ha visto in Rolando Bellizza, ha visto una persona adatta per questo. E come ha fatto a vederlo? Ha fatto quando l'ha incontrato, dopo averlo conosciuto, gli ha posto, ha capito che era abbastanza avanti nella matematica, gli ha posto un quesito matematico e gli ha detto, guarda ti do questo quesito matematico, va a casa, risolvimelo, poi ti vediamo, dimmi come hai fatto. Lui Rolando si è liderato in parte, in parte, e sappiamo che era nel convento, in parte, e lì sui due piedi gli ha risolto il quesito matematico. E infatti noi abbiamo delle lettere di Majorana che, dopo che dice, mi ricordo il primo incontro in cui io ti ho detto, ti ho dato da fare un quesito matematico che forse anch'io non ero capace, pensa che dice Ettore Majorana che matematica è qualche cosa di eccezionale, forse anch'io non ero stato capace, non conoscendo la nuova matematica, perché bisogna pensare che Ettore Majorana ha sviluppato, oltre a questa teoria fisica, che poi viene applicata con la macchina, anche una nuova matematica, che farebbe fare un balzo enorme avanti alla conoscenza umana. Tanto vero che, poco che sanno gli scienziati su Ettore Majorana, prima che sparisse, stanno studiando la possibilità di fare il computer quantico, che è basato fondamentalmente con un'idea, un'idea di Ettore Majorana sulla nuova matematica. Ecco, in questa maniera lì, Ettore Majorana ha visto l'uomo adatto, ma l'ha visto più che anche dal punto di vista mentale, pratico, della capacità, dal punto di vista morale l'ha visto. E questo lo ricaviamo dopo nelle lettere di Ettore Majorana, che gli dice a un certo momento, alla fine, verso il 2000, gli dice, tu sei il mio unico discepolo, non usa allievo. Io ho sempre usato allievo per dire, perché lui, Rolando ha imparato tutto da Ettore Majorana, è rimasto in contatto per sei anni, dal 58 al 64, ha seguito, ha imparato tutto della fisica, tutto, fino a una certa quantità, perché risulta anche dalla storia, e lo dice chiaramente anche Rolando, Ettore mi ha insegnato non tutto, perché c'è un motivo ben preciso al riguardo, però mi ha insegnato tanto, tanto vero, il 60-70% della matematica, della fisica, che è la base della sua visione del mondo in questo settore. E speriamo che, diciamo, questa conoscenza venga prima o poi rivelata al mondo, ecco, perché cambierà le sorti del mondo, come poi magari affronteremo il discorso più avanti. Ma questa macchina, nel concreto, ideata da Majorana e costruita da Pellizza, che cosa può fare nello specifico? Guarda, l'ideale sarebbe di leggere la prima lettera di Ettore Majorana e commentarla. Io ce l'ho qui, se vuoi posso anche leggetti delle parti, ma ben precise al riguardo. È una lettera del 1900... Dai, 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 un tuo assunto, perché la lettera... Allora, questa lettera, questa macchina può fare, e siamo fermi al 1964, quando gli dice questo, e poi lo mette in pratica, fa, prima fase, fa quattro fasi, gli indica. La prima fase, siamo in grado, gli dice Ettore Majorana, di generare antiparticelle, tu sai benissimo che le antiparticelle le stanno cercando al CERN di Ginevra, sono anni e anni che stavano cercando di trovare... Nella quantità e nella qualità che noi vogliamo, basta dire questa frase che mi ha detto tutto, generiamo antiparticelle, te lo ripeto perché per me è una cosa stupefacente, nella quantità e nella qualità che vogliamo. E gli dice anche, non preoccuparti per l'energia che si sviluppa là, ti ho fatto già vedere, ti ho già dimostrato, che siamo in grado di contenerla, però gli dice, quando fai i primi esperimenti, ti raccomando, farlo in un posto isolato, sta attento perché doveva partire. Perciò è capace di generare antiparticelle. E cosa fa con queste antiparticelle? È in grado di annichilire la materia, questa è la prima fase, ossia questa macchina, che poi è un cubo piccolissimo, 50 cm per 50 cm, che andava avanti con una batteria di 40 volt al riguardo, emette un raggio, per tirar fuori però il raggio della macchina, perché la macchina produceva le antiparticelle all'interno della macchina. Occorreva estrarle, estrarle queste antiparticelle dalla macchina. Per estrarle, Ronaldo Perizza ha dovuto fare 228 tentativi con 228 distruzioni della macchina. Tutte le volte che faceva, cioè l'energia che si sviluppava, non usciva, si sviluppava all'interno e la macchina si autodistruzioni della macchina. Questo raggio. Ora, quando il raggio viene estratto, può andare a colpire, poi si è programmata la macchina, perché la macchina agisce come fosse un computer, grossomodo. C'è un software, è un hardware. La macchina è l'hardware. Poi dobbiamo introdurre una formula, una formula man mano, con questa formula agisce secondo l'input che vi viene dato. E va a colpire la sostanza, la annichilisce, la fa sparire completamente. Proprio annichilimento completo, lasciato un bricciolo di residuo particolare. Questa è la prima fase. La seconda fase, dimostrata anche quella, produzione di energia praticamente a costo zero. Cioè la macchina è capace di colpire con quel raggio lì qualsiasi sostanza e farla, portarla, questo è farla riscaldare fino al 40% del grado, c'è tutto un calcolo ben preciso. E produce praticamente a costo zero. Perciò potrebbe risolvere il grosso problema dell'energia, che sappiamo è uno dei problemi fondamentali dell'umanità. Terza fase, trasmutazione della materia. E qui siamo, non è che le altre due, le prime due fasi siano piccole o stupidate, ma qui siamo veramente qualche cosa. Ossia può trasformare una sostanza, una materia in un'altra materia, un elemento in un altro elemento. E anche qui abbiamo fatto delle, ci sono state le prove, documentate al riguardo, ben precise, fatte al suo tempo al riguardo. Quarta fase, traslazione della materia in un'altra dimensione e possibilità di farla ritornare, con degli effetti eccezionali. Nel libro che noi mi hanno scritto, che si è scritto, che lo si è detto, non diciamo quali sono i veri effetti di questa traslazione. Però abbiamo pubblicato, appositamente per far capire le cose, una lettera di Majorana, in cui Rolando Pellizza gli dice siamo nel 2006, noi ci fermiamo come racconto a 1992, ma nel 2006 pubblichiamo una lettera di Majorana, di Rolando Pellizza a Ettore Majorana, in cui gli dice, è questa la settima fase? Guarda che io parlo su finestro di quattro fasi. E lui risponde, non è la settima fase, ma è la quarta. Sono in grado di poter far retrocedere di dieci anni, quindici anni, venti o venticinque, qualsiasi persona, questo è il concetto, in modo tale posso programmare la macchina, infatti, che fa un ringiovenimento. Il che è il massimo. E siamo fermi, con questo qui, alla quarta fase. E nella quarta fase è stata dimostrata nel 1992, anzi nel 91 la prima volta, poi nel 92 quello, il primo anno. E sono passati dal 92 a 28 anni. Tu immagina che cosa hanno avranno studiato Ettore al riguardo, perché noi abbiamo dimostrato che nel 2006 lui era ancora vivo. Abbiamo dimostrato con delle perizie, perché mi ha portato delle fotografie, fotografie fatte in vari anni, dopo la sua enigmatica scomparso. Anche questo è periziato da un perito informatico molto bravo, che collabora con i RIS. Con i RIS è uno veramente, è un'aperizia che è ineccepibile. Tanto vero che noi l'abbiamo pubblicato, nessuno ha osato dire che contestare quello che abbiamo detto noi. L'hanno piuttosto trattato in una maniera, ignorandola, oppure qualche battuto, qualche articolo di giornale, di presunti esperti di fisica, ma nel resto niente. Ho visto queste foto perché, come ti dicevo, abbiamo un amico in comune che oggi sta a San Marino e mi aveva fatto vedere qualche anno fa questi documenti che sono veramente incredibili. Ma per quanto riguarda, proprio alla luce però delle dichiarazioni appunto di Maiorana, su gli eventi che avverranno tra il 2022 e 2024, e tu pensi che questa macchina possa essere utilizzata anche per risolvere questi problemi climatici, questi problemi che andremo ad affrontare nei prossimi anni? Poi se vuoi accennare qualche cosa riguardo, perché purtroppo molte persone sono all'oscuro per questo cover up, diciamo, del sistema, il sistema che protegge se stesso e che ha spinto queste persone a lavorare all'aria aperta. Quindi ci puoi accennare quali possono essere le problematiche che andremo ad affrontare? Sì, benissimo, ti ringrazio per questa domanda che è importantissima, perché noi abbiamo, quando si è pubblicato questa storia documentata del rapporto di Rorando Pelizzo con Ettore Maiorana, abbiamo portato anche tutta una serie di documentazioni. Allora, c'è anche una lettera di Ettore Maiorana, scritta a Rorando Pelizzo. Perché scrive innanzitutto lettere Ettore a Rorando? Perché? Per non far vedere che c'era il collegamento, perché Ettore è sparito ormai nel 58 da 20 anni, e lì poi sono passati altri 20 anni e così via, ma voleva rimanere, diciamo, nell'ombra. E allora Rorando, passati i primi sei anni in cui è andato, ha avuto la formazione nella fisica e nella matematica di Ettore Maiorana, poi ha proseguito a sostrarlo da solo, però faceva questi esperimenti, passava i dati degli esperimenti, li passava a Ettore Maiorana, li quale li vedeva e sviluppava i passi successivi da fare. Questo è stato il grande lavoro che ha fatto Rorando Pelizzo, diciamo, per portare, per dare un aiuto a Ettore Maiorana, che aveva bisogno di dati concreti. Tanto meno che nelle lettere c'è scritto nella prima lettera, man mano, per fare la seconda, la terza e la quarta fase, Ettore Maiorana, ho bisogno di avere i dati che tu mi darai quando farai gli esperimenti. Allora, c'è una lettera di Ettore Maiorana, attorno al 1980, un po' prima, che gli dice, hai consegnato al Ministro Mancini la relazione sull'ozono? Cioè, cosa aveva fatto Ettore Maiorana? Aveva già capito che c'era un grosso problema climatico. Parlo degli anni 70, forse anche prima, del secolo scorso. Aveva fatto una relazione e l'ha dato a Rolando. Rolando l'ha consegnata a un sottosegretario del nostro governo, questo Mancini Antonio, che era stato delegato dal Presidente del Consiglio, Andreotti, a seguire di persona Rolando Perizza. Tanto vero che è stato in contatto con Rolando, quando lui era anche console a Nizza, e quando poi è andato ambasciatore a Beirut, poi è morto. Ma però ha seguito praticamente Rolando attorno agli anni, dal 76 in poi, fino attorno agli anni 90, grosso modo. E cosa ha fatto? Rolando ha dato questa relazione a Mancini per dire, guarda che abbiamo un problema di climatico a riguardo. Che fine abbia fatto questa relazione non sappiamo. Molto probabilmente è andato a finire qualche scaffale, perché praticamente non ha mosso un dito al riguardo. Però sappiamo che Rolando ha detto, in base ai calcoli fatti da Ettore e Majorana, attorno al 2022-2024, se non si interviene in modo opportuno, succederà una catastrofe climatica, 20 a 600 km all'ora, piogge veramente, ogni goccia, invece di essere come un cucchiaio, oppure un bicchiere d'acqua a ogni goccia, tanto per dire in termini pratici che poteva succedere. Questa macchina, siccome è capace di trasformare un elemento in un altro, può agire sul buco dell'ozono e chiuderlo questo benedetto buco. Noi abbiamo un filmato che non ha niente a vedere con, diciamo, col buco dell'ozono, ma fa capire benissimo. È il filmato della trasformazione che fa Rolando Pellizza dei cubi di PVC in oro. A un certo momento, il mio pensiero che questo filmato è del 1992, fatto un po', che era ancora una tecnologia, poi Rolando non aveva neanche, lui non aveva neanche la videocamera, se l'ha fatta imprestare, per noi era una cosa normalissima adesso, ma se tu vai indietro 30 anni fa, non era una cosa normalissima, era difficile. E lui l'ha fatto per dimostrare a un suo amico, che sarebbe poi il professor Carlo Taramazzo della Svizzera, che era capace di fare quella cosa lì. E questo filmato, fatto nel 1992, noi l'abbiamo mostrato solamente nel 2015, per cui è rimasto lì, non si aveva intenzione di mostrarlo, se non si voleva mostrare, diciamo, assieme a tutte le altre prove, in modo tale che avesse valore, perché era avvallato anche dalle altre prove. In questo filmato, in un certo momento, lui dice, Rolando è lì da solo, fa l'esperimento, che ha dovuto nascondere questi cubi che aveva fatto, perché dovevano enterrare degli operai, a mettere a posto il pavimento, e soprattutto il tetto, di questa specie di garage, dove lui stava lavorando. dice, ho fatto un buco, ma lui non sa di che, parlava, ho fatto per terra un buco, e ho trasformato la terra in erozono. Tanto per dire, cioè, noi abbiamo già una prova concreta di quello che poteva fare la macchina. La macchina è capace di intervenire, trasformare una sostanza all'altra, per cui, se c'è questo buco dell'ozono, in modo opportuno, programmando la macchina, è capace di intervenire e chiudere questo buco, in modo tale che si ritorna a, diciamo, si porta indietro, si chiude questo buco, e ritorna la temperatura, tu sai che c'è un aumento della temperatura, dei gradi, due gradi, come era prima al riguardo. Ecco, questo, ecco quello che può fare la macchina. Ed è documentato al riguardo, in modo ben preciso. No, ma è importante sapere, avere queste informazioni, perché molti non sono a conoscenza, o magari sanno e girano la testa da un'altra parte, ma queste problematiche non sono problematiche che affronteremo fra venti o trent'anni, ma nel nostro prossimo futuro. Al di là, diciamo, di tutto quello che sta succedendo in questi giorni e di questa lotta biblica che sta avvenendo contro il Deep State, come ben sai, questo governo occulto, che per tutti questi anni appunto ha occultato queste tecnologie, queste conoscenze, magari tenendosele per i loro scopi, anche militari e via discorrendo. Secondo te, che ruolo hanno avuto appunto questo Deep State, attraverso i servizi segreti anche deviati, o i poteri forti, come altri li chiamano, in questa vicenda? Ha avuto un ruolo fondamentale, quello di bloccare... Oh, loro hanno sempre cercato di impadronirsi dalla macchina. Nel 1992, io ho fatto un elenco di tutte le persecuzioni, di tutti i fatti accaduti a Rolando, per acquisizioni in casa sua, mandati di arresto, è stata sequestrata la moglie una volta, lui è stato due volte sequestrato, fino al 1992. Nel 1992, lui è stato portato via sequestrato, portato in una villa, era in Spagna, a Malaga, a Malaga, lì in questa villa, eccetera, c'era, ne ha fatto vedere, una decina di macchine, dice Rolando, le mie, dal punto di vista tecnico, tecnologico, facevano ridere il spettrofano, perché la faceva, che si costruiva lui, con grande difficoltà, funzionavano, ma dice, ho visto degli operai, costruire queste macchine, perfette, loro sono in possesso della macchina di Rolando Perlì, di Majorana, sono in possesso, non sono capaci di farla funzionare, e ha sempre cercato di impadronirsi della formula, la formula che noi troviamo, torno indietro, nella lettera del 1964, di Majorana, mi dice a Rolando, mi scrive a Rolando Perlì, ti raccomando, i disegni, non sono tanto importanti, la formula, a costo della vita, non devi cederla, non dobbiamo cederla a nessuno, se non per scopi di beneficio, e non è mai stato ceduto a questo, e tuttora, loro cercano di ottenerla, Rolando Perlì è tuttora vivo, per un semplice motivo, perché non sono ancora riusciti ad avere questa formula, ti posso assicurare che dal 92 in poi, gli hanno fatto dietro ancora di tutto, perché io ho dei filmati, che l'ho intervistato attorno al 2007-2008, 2008, cioè dopo, in cui Rolando Perlì era un ebete, ma perché era un ebete? Perché l'avevano preso, l'avevano iniettato anche, adesso sto parlando di una cosa che non dovevi neanche dire, perché sono andato fuori dal sebilato, gli avevano inoculato un siero ben preciso, in cui veramente, volevano, o tu ci dici la formula, o altrimenti, tu diventi un ebete al 100%, perché noi abbiamo il controveleno da poterti inserire, non te lo diamo se tu non ci dà, e lui anche lì non ha ceduto, mamma mia, tanto per dirti un attimino, per cui questi qui li hanno sempre cercato di impadronirsi, e non vogliono che venga fuori questa macchina, perché? Perché hanno tutti i loro interessi, perché sconvolgerebbe completamente tutto, tutto il pianeta proprio completamente, perché tu pensa, il problema dell'inquinamento lo possiamo risolvere, la plastica, non plastica, basta ad operare questa macchina, viene risolta, il problema di energia costo zero, trasformazione delle sostanze in un'altra, sembra, ti dico che abbia fatto anche delle prove, di trasformare qualche cosa anche, diciamo, senza andare nell'oro, nelle altre sostanze che sono preziose, ma sostanze essenziali per vivere all'uomo, intendo dire, elementi fondamentali come il pane, come eccetera, potrebbe risolvere tutti i problemi che abbiamo. Altro, quella poi, l'ingiovanimento, come hai accennato tu, capito, tu in matina, e Rolando Perizzevi, tuttora vivo, perché sperano sempre di potersela, poterla avere. Come ben sai, è notizia di qualche giorno fa che il Presidente Trump, in questa sua lotta contro il Deep State, ha esautorato di fatto Kissinger e tanti altri esponenti del Deep State, dal Consiglio di Sicurezza della CIA e da tante altre funzioni. Che ruolo appunto ha svolto in questa vicenda anche questo personaggio così raccapricciante come Eric Kissinger? Poco che io posso documentare, perché non andiamo per documenti e non tipo di problema. Lui è intervenuto negli anni 1976, voleva sapere tutto, ha dato disposizione di seguire questa vicenda, questa vicenda al 100%, tanto vero che, torno a ripetere, gli hanno fatto quella promessa lì, gli hanno dato a Rolando di fare un esperimento che lui si è rifiutato di fare, gli hanno dato le fremeri dei satelliti, lui doveva avere dovuto, con la macchina, distruggere quei satelliti, indicateli degli americani, perché loro volevano usarla proprio come arma. per cui hanno avuto senz'altro un ruolo importantissimo, non solamente lui, ma diciamo, chi osteggia Rolando Perizza, sappiamo benissimo da che parte chi sono, anche se non possiamo, accenniamo. io parlo sempre, quando per esempio parlo nel libro, nel libro e così via, parliamo degli americani, mettendo tra virgolette americani, perché, perché, tu sai benissimo, dire che sono stati esattamente certe persone, bisogna avere tutta anche una documentazione, ben precisa, e poi fanno presto loro a fartela sparire o cambiartela al riguardo. Per cui, eccola, hanno avuto un ruolo importantissimo, queste qui, e lo hanno tuttora, lo hanno, sperando sempre, come avvenga quello che tu accennavi, che in questo momento venga questo benedetto cambiamento. Assolutamente, assolutamente, ce lo auguriamo e stiamo seguendo giorno dopo giorno tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, anche se molte persone non sono consapevoli che quello che succederà negli Stati Uniti avrà delle ripercussioni in tutto il mondo. Il caso di Majorana e Pellizza è un esempio di tutte le cose positive che si potrebbero verificare nel momento che questo deep state crollerà. Ma dopo tutte queste angherie che voi avete dovuto subire con questa storia, che cosa vi proponete di fare nel prossimo futuro? Ecco. Tira fuori la macchina, e metterla a disposizione. Vogliamo che venga fuori. Si sta lavorando. Torno a ripetere. Rolando, quanto abbiamo raccontato, si ferma nel 1992. Dal 92 adesso Rolando Pellizza non è mai rimasto fermo. Ha sempre cercato in tutti i modi di poter mettere la tira fuori. Lui non ha mai chiesto soldi di finanziamento, ma ha fatto due o tre appelli dicendo non voglio finanziamenti, voglio che mi venga data la possibilità di costruire questa macchina e di fare una prova in tutta sicurezza. Il suo appello è rimasto sempre andato a vuoto. Io mi domando anche tutte le università che abbiamo in Italia, tutti gli enti, lo Stato italiano stesso, perché Rolando Pellizza è molto attaccato, ha sempre detto, prima pensa sempre all'Italia, poi all'Europa e pensa al mondo. Il concetto fondamentale è tra il mondo, ma si parte naturalmente da dove si hanno le radici. Lui ovviamente già nel 76 lo voleva dar gratis. Lui quando ha fatto la prima dimostrazione al Monte Barabone che c'erano lì questi due coloneli di servizi segreti, ha fatto la dimostrazione della prima fase annichilimento della materia che loro l'hanno interpretata subito come arma da guerra, ha detto datemi tempo, due anni, io metto a posto la macchina come produttrice di energia a costo zero e poi la cedo gratis all'Italia. Questo ha fatto, che poi rientrava poi nel piano che aveva Ettore Majorana, perché Ettore Majorana gli ha detto la macchina sarà presentata solamente alla seconda fase, quando la, come produzione di energia a costo zero. aveva già programmato di politica, poi è saltato tutto perché già dall'inizio non ha seguito e l'ha bloccato arriva. Ma il problema è come evidenziavi tu è la connivenza tra questi poteri forti e anche il nostro governo, nostro, tra parentesi, perché fino a quando continuerà a esserci questa classe politica deviata e corrotta, queste scoperte incredibili, questa luce per il mondo penso che continuerà a essere occultata e osteggiata. Quindi veramente ci auguriamo che un domani quando questa classe politica dovrà prima o poi scomparire, ci potranno essere delle nuove rappresentanti del popolo che potranno abbracciare, sposare questo progetto creando un team magari con le università, con le associazioni in modo tale che magari Rolando non debba più lavorare e rischiare di persona la propria vita e i propri affetti ma poter entrare in una sorta di comitato tecnico-scientifico per la produzione e la divulgazione di questa conoscenza che sarà diciamo la chiave di volta per trasformare le sorti di noi tutti. Infatti Luca dovevo dirti anche una cosa fondamentale che è fondamentale che è questa. Questa macchina oltre a poter fare questa una prima fase seconda terza quarta fase però può essere programmata per fare un'unica cosa. Faccio un esempio. Abbiamo il problema della plastica. È un problema ormai sappiamo benissimo che sta è qui l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Bisogna distruggere questa plastica. Siccome questa macchina è capace veramente di annichilire la materia va bene se la viene programmata per fare quella plastica solamente distruggere la plastica fa unicamente quello. Tu vai in la macchina gli introduci la formula la formula la macchina funziona. Nessuno la può modificare perché nel momento in cui viene modificata non funziona. tu immagina allora che questa macchina può essere programmata per risolvere vari problemi senza andare a toccare altri problemi perché qualcuno potrebbe usare anche come arma da guerra perché mi capisci benissimo perché però se è programmata giustamente non diventerà mai un'arma da guerra cosa che Ettore Majorana abborriva già nel 64 e Rolando Pellizza lo stesso è diventato il suo discepolo e non più allievo perché lo dice Ettore Majorana cioè ha condiviso la stessa idea di Ettore Majorana che per vent'anni dopo vent'anni l'ha incontrata dopo vent'anni dalla sua animatica sparizione e l'ha condivisa in pieno e camminano tutte e due sul stesso binario diciamo così sulla stessa strada ecco certo no no ma è stato un incontro del destino penso quello tra Rolando e Majorana e Rolando si è rivelato essere meritevole diciamo della fiducia di Majorana e io mi auguro che possa vivere altri cento anni come insomma tutto il vostro team che con tanta passione appunto vi dedicate anche alla divulgazione perché penso che a parte nel passato qualche apparizione su canali ufficiali tra virgolette istituzionali ad oggi l'unico modo per entrare in contatto con voi è conoscere anche la storia di 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 questa macchina storia di Rolando di Majorana sia solo attraverso i social purtroppo voi avete comunque delle pagine facebook delle pagine però esatto siete molto presenti quindi io invito tutti i nostri spettatori i follower di database italia.it anche a chiedervi l'amicizia per essere sempre aggiornati perché io penso che tutto quello che Alfredo tu hai vissuto in prima persona attraverso i racconti anche di Rolando in tutti questi anni e ti fa onore questo ci sarà un'accelerazione degli eventi nei prossimi due anni quindi io credo che quasi quasi ci siamo io faccio il tifo per te per Rolando per tutti quanti per noi per il mondo per il mondo intero ti ringrazio capito e nutro nel mio cuore non ti nascondo il desiderio da anni dopo aver conosciuto le vicende le vicende di Majorana il desiderio un giorno di avere la possibilità magari di conoscerlo di persona come penso tantissime persone che hanno seguito queste vicende si augurano anche perché il giorno che dovesse accadere questo vorrà dire che ci sarà sarà accaduto il vecchio paradigma e saremo entrati in un'altra era ecco senza quindi io non lo so ringrazio per l'augurio se volevi salutare la nostra aspettativa volevi dare un saluto anche da parte di Rolando visto che tu sei il biografo ufficiale di questo progetto Rolando è contentissimo lui sta sta lavorando al riguardo sempre su questa storia perché non demorde mai va avanti lui ha delle convinzioni che gli vengono è veramente convinto di riuscire a mettere questa macchina a disposizione dell'umanità e l'obiettivo è sempre quello è sicuro di potercela fare spera sempre nel sicuro che venga naturalmente non può dire la data ben precisa ma da certi sentori dovremmo esserci abbastanza vicini ecco questo è il mio sentire ti porto quello che pensa lui al riguardo pensa veramente che è in sintonia con quello che hai detto tu dopo che sia un mese due mesi ma siamo qui insomma c'è un cambiamento enorme che avverrà va bene si sta accelerando tutto e io non so come ringraziarti per il tuo prezioso tempo per la tua testimonianza anche è stato una persona squisita è innamorato anche lui di questa storia la sta seguendo e ci dà una mano dal punto di vista dei social è lui che ha messo su che ha fatto tutto questo meno male che l'ha fatto abbiamo trovato è un grande ho avuto modo di conoscerlo per telefono spero di conoscerlo di persona molto presto insomma io ti ringrazio e ti saluto e ti mando tanti auguri a te a Rolando a tutti quanti per questo meraviglioso percorso di vita che avete abbracciato grazie mille Luca io ti ringrazio per quello che fai e per la tua cortesia e per la tua volontà che ti porta a portare avanti queste idee e queste storie grazie grazie mille Alfredo un abbraccio grande a presto altrettanto ciao ciao